Il Paradisi delle Signore 9, Massimo Cagnina, una settimana di riprese molto intensa. C'è grande attesa per la nona stagione del Paradisi delle Signore, gli attori sono tornati sul set della Fiction il 27 maggio. Massimo Cagnina, nel pomeriggio di sabato 1 giugno, ha condiviso un video con i suoi follower Instagram, in cui ha raccontato che la prima settimana negli studi romani videa è stata molto intensa. Nel frattempo, oltre al personaggio di Ciro, sono confermati altri protagonisti, tra cui Agatha, Concetta, Matteo, Marta, Delia, Rosa, Clara, Umberto, Elvira, Salvatore, Marcello e Tancredi. La figlia di Adelaide, Odile, sarà uno dei nuovi ingressi nel cast. La prima settimana di riprese è stata molto intensa per il personaggio di Ciro nella prima settimana di riprese, in base alle dichiarazioni degli attori del Paradisi delle Signore. Sembrerebbero essere state girate scene molto impegnative. Massimo Cagnina, che presta il volto a Ciro Puglisi, ha trascorso il primo sabato di giugno riposandosi e svagandosi in un bar della Capitale e ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, affermando, pomeriggio di relax totale, dopo una settimana di riprese intensa, molto intensa. Nei giorni scorsi anche Pietro Masotti, che ricopre il ruolo di Marcello Barbieri, aveva raccontato ai fan della fiction di essere molto impegnato sul set e non avere avuto modo di condividere qualche backstage del set sui social. Ciro, Concetta e Agatha Puglisi sono tornati sul set per quanto riguarda la famiglia Puglisi, oltre a Ciro, sono conformate nella nona stagione del Paradisi delle Signore anche Concetta e Agatha. Nella prima settimana di riprese Silvia Bruno, che presta il volto alla minore dei Puglisi, e Gioia Spaziani, che interpreta il ruolo della mamma della stilista, sono tornate sul set e hanno condiviso qualche video mentre erano negli studi romani VIDEA. Il momento non è chiaro se Chiara Russo sarà presente o meno dal momento che l'attrice di Maria è impegnata a Napoli sul set di Mina Settembre. Danilo D'Agostino, invece, continuerà a essere nel cast e, quindi, Matteo Portelli tornerà da Parigi. Odile arriva a Milano nella nona stagione del Paradisi delle Signore e la figlia della Contessa arriverà a Milano. Vanessa Gravina ha annunciato in un'intervista televisiva che la figlia di Adelaide sarà presente nelle nuove puntate. Anche Elvira e Salvatore torneranno sul piccolo schermo e racconteranno se la loro storia d'amore è proseguita o meno nell'estate del 1965. Elvira Camarrone, che presta il volto di Clara Boscolo, aveva confermato di essere ancora protagonista della fiction e, pertanto, nei nuovi episodi si scoprirà se la nipote di Don Saverio si è fidanzata con Alfredo.